Cioè ecco, prima di tutto si parte dalla resistenza umana, no? Cioè prima di tutto mai più di cinque. Qualche giorno fa Massimo Troisi avrebbe compiuto 59 anni. A distanza di quasi 18 anni dalla morte, una malattia cardiaca trascurata per amore del cinema, la sorella Rosaria ne disegna un ricordo affettuoso, consegnato alla scrittura nel volumetto Oltre il respiro. Un ritratto umanissimo e personale di Troisi, dall'infanzia a San Giorgio a Cremano fino alle candidature all'Oscar del 1994, che invita il lettore in un universo etico e gentile, solcato da quella malinconia comica che era il tratto più intenso e più caratteristico dell'attore. È un percorso che io stesso ho voluto fare con l'impressione di avere accanto a noi, a tutti quanti, per risentire lui che ci ha lasciato troppo presto. Venerdì 24 febbraio, al PAN, il volume è stato presentato dall'autrice assieme a Lilli Ippoliti, che nel libro compare con un racconto originale in cui Troisi diventa il piccolo principe di Saint-Exupery. Sono intervenuti lo scrittore Maurizio De Giovanni, l'attore Patrizio Rispo, il produttore Mauro De Berardi e l'assessora alla cultura Antonella di Nocera. Sì, se os這種iksi è presente Google tram bridge di mostrarvole di no, 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 no. in a row